C'è Marco Falaschi e Moia Liga Mischius. C'è il final 4 della Champions League, perché è un grande gol, perché è il miglior turnamento in Europa e la migliore competizione del mondo. Il mio primo gioco nella Champions League era quando giocavo in Budva con Czeske Budajewicz e abbiamo 3-0. C'è il primo gioco in Budva? Ok, ho giocavo solo una settimana in Budva, quindi passiamo la round e arriviamo nel secondo gioco. Sì, passiamo la round. Il primo gioco? Il miglior gioco? Il miglior gioco? Ci sono molti migliori gioco. Ok, no, vieni. Quando vengono sicuramente 3-0 in Budva con Czeske Budajewicz. Il miglior gioco è quando ho bloccato... Non, quando ho bloccato... Quando ho... Non so come dire... Contrasto con Czeske Budajewicz. Scusate con Czeske Budajewicz. Perché io ero così... Come si può vedere, sono un po' non è così alto. E Musietsky è magari più alto da me, un po' di più. E sono cose molto divertenti. Che ero in Belgorod? Due a Belgorod, sicuramente. In Russia. E sono, non lo so... E abbiamo viauto per... 12 ore, magari 14 ore. In Italia. Dove spiegare a Roma? Come hai mai avuto? Eh... Maybe Roma. Maybe Roma? Ah come on, yeah, Roma, Roma. Yeah, I know. Roma, Dracceco, Dracceco. Eh, why? Why? Perché... Perché in my opinion we can... for sure pass the round. And... If we are lucky for sure we have to... go in front, play off. And maybe... Ci vediamo. Per sicuramente, possiamo vincere perché abbiamo i nostri fanci e, in mio opinion, Ergo sarà importante per noi. Arrivo in Playoff 6. Lo vedo che è difficile, ma proviamo. Grazie a tutti i nostri ragazzi in Ergo Arena per il primo gioco con Novi Sad. E ringraziamo a Ergo Arena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.